Un gioco ti dirò, ti ho rinunciato agli occhi suoi per te. Sono ormai trascorsi più di otto mesi da quando gli stadio cantavano sul palco delle Teatro Ariston il brano Un giorno mi dirai, trionfatore della scorsa edizione del Festival di Sanremo, ma in città non è ancora stata posizionata la targa che sulla pavimentazione della centrale Via Mateotti celebra tutti i vincitori della Kermesca Nora. Una mancanza che non è passata inosservata al gruppo politico di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale che ha presentato anche un'interpellanza in Consiglio Comunale. Abbiamo chiesto all'amministrazione comunale, ha detto il capogruppo Luca Lombardi, i motivi per cui in otto mesi non sia stata ancora posata la targa intitolata ai vincitori della 66esima edizione del Festival e per sapere le tempistiche entro cui questa verrà collocata. La posa delle targhe dei vincitori del Festival lungo Via Mateotti rappresenta infatti non solamente un abbellimento urbanistico della via stessa ma soprattutto un segno di riconoscimento della città verso l'evento Canoro che non solo l'ha fatta conoscere in tutto il mondo ma ha creato, grazie anche agli eventi collaterali, un indotto con importanti ricadute sul turismo, sull'immagine e sull'economia del territorio. Proprio uno di questi eventi collaterali al Festival si sta svolgendo dal mese di ottobre ovvero Area Sanremo, il concorso per giovani cantanti che girando in centro avrebbero cercato in vano la targa celebrativa del Festival 2016.